giovani buongiorno e ben ritrovati sul canale di neapolis 1926 signori cittadella neapolis andiamo a giocarla subito veramente serve veramente un buon portiere ragazzi a questa squadra ma voi perché queste magliette così va bene dai dai sempre un buon portiere a questa squadra ragazzi oh voglio ci ha l'uomo sta palla a cristo o no dai 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 subito vabbè stiamo già sotto incredibile voglio dubuis dubuis dub no voglio no cioè io non ci posso vedere che ha preso attenzione siamo messi malissimo in difesa mamma mia di quanto è uscita ragazzi quanto è uscita questa palla popola giropalla della neapolis dai abate fagioli fagioli madonna mi madonna si è passato quella palla attenzione attenzione nel mezzo 2 a 0 fuori gioco fuori gioco fuori gioco fagioli novak madonna mi dubuis dubuis passa dubuis eccolo qui 1 a 1 dubuis dubuis vai dubuis fagioli novak dubuis 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 novak signori dubuis novak che giocatori signori di davanti mamma mia no iacchist iacchist cioè oh io pensavo che era dentro sono sincero pensavo che era dentro si pila per lungo si kovacevic novak dubuis dubuis attenzione ancora dubuis non ci voglio credere fuori gioco fuori gioco ok fagioli russo allora mi dai la novak 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 la chiude lui novak 3 a 1 e si balla ragazzi e si balla fammela vedere le risultate mo cannon neo eccolo dubuis dubuis mamma mia eh ragazzi quei due novak dubuis signori novak dubuis via questa palla bravi bravi finish 4 a 1 peccato per i gol subiti ragazzi eh peccato per il gol subito peccato per il gol subito intanto dubuis pallone a casa se l'ha portato andiamo ora siamo imbattuti e siamo sempre lì ragazzi eh per ora siamo sempre lì chat dobbiamo vedere un po' la chat che ci dicono dubuis segna una tripletta contro il cittadella grande dubuis eh aspettate un attimo io voglio cambiare un attimo la rosa gestione squadra a questo punto fuori fontana è dentro novak voglio che è troppo più forte è troppo più forte ragazzi mi dispiace ma allora poi qui Kovacevic lo portiamo in panchina al posto di battaglia coppola idem al posto di poli tanto ci abbiamo eh eh po' basta 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 ok serve un portiere vai giù ci serve un portiere vuoi salvare le modifiche sì ci serve un portiere chat vediamo un po' la chat che ci dicono chat del giocatore novak eh mister la ringrazio per avermi dato ascolto e avermi mandato in campo resta con il mio prestazione autorevole ok non mi voglio fare nessuna conferenza stampa ma che conferenza stampa devo fare mi amma ci fu un'acchista dai ragazzi eccolo lì 50 partite come team name ma perché perché fifa queste cose perché 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 50 partite comunque 50 partite ragazzi con il neapolis di Nappi fagioli mamma mia bravissimi tutti madonna mi madonna mi dubuis dubuis è regolare dubuis dubuis sfonda là no no dubuis dubuis madonna mi no dubuis dentro dubuis dubuis colombi passaggio intercettato madonna mi fallo partire dubuis dubuis a tu per tu dubuis dubuis c'è io non ci voglio credere c'è voglio ma com'è possibile vado a scassare mi devo scassare voglio brava bate madonna mi novak 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 1 a 1 l'aria per il neapolis 1 a 1 novak dai sempre lui ragazzi sempre lui novak brava bate russo madonna mi vai novak vai novak vai novak che te li mangi novak novak signori novak 2 a 1 novak dai dubuis 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 perché ho sbagliato a premere le vuoi due oggi fatta la finta la dovevo tirare attenzione rossi questa volta si fa trovare punto dai dai dubuis questa volta non lo sbagliare dubuis dubuis signori dubuis 3 a 1 3 a 1 chiusa bravi ragazzi bravi così bravissimi 3 a 1 madonna mi dubuis dubuis per la doppietta dopo voglio vedere un attimo i gol di dubuis finita 3 a 1 bravi tutti ragazzi bravi bravi bravissimi dai 3 a 1 l'intervista dopo partita vai avanti il venezia il venezia non perde il venezia non perde è allucinante ragazzi stiamo facendo il vuoto però mi sa noi è il venezia fammi vedere un po' sta classifica stiamo facendo il vuoto non lo stiamo facendo però è a più 4 e non ne ha persa nemmeno uno la prossima è contro il Cagliari mi fai vedere il no 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 questa è la Coppa Italia volevo vedere un attimo la classifica marcatori che io non mi ricordo mai come si fa la classifica marcatori comunque programma settimanale rosa trasferimenti ufficio va bene non ci interessa niente signori mi raccomando iscrivetevi al canale gratis ma tanto già lo sapete why you quei due lì davanti promettono veramente bene ciao a you